Saluti ai telespettatori di Teleacras. Il simbolo grafico di Teleacras è la farfalla che vola e le farfalle, alcune si prendono, altre scappano. La farfalla di Teleacras però non è catalogabile in nessuna delle due categorie e non vi riuscirebbe nemmeno il più abile entomologo che è lo studioso di insetti. Per quanto si ingegni, magari scambiando anche lucciole per lanterne, non ne imprigionerà mai Teleacras. Perché la farfalla di Teleacras non la si acchiappa e nemmeno scappa. Perché la farfalla di Teleacras semplicemente vola e vola alto. Ecco il tratto distintivo delle sue ali. Teleacras è la sua informazione che è come uno specchio. Ciò che si mostra innanzi è riflettuto, senza alcun artificio, o droga alterrante, o contratto condizionante. Ecco il tanto sfarfallato contratto tra Giuseppe Arnone e Teleacras. La paventata cenere lavica che ha profetizzato l'eruzione vulcanica, dilagante e mortale, e che poi invece si è rapidamente dissolta in una traccia fumosa, così inconsistente tanto da essere fugata dal battito d'ali di una farfalla, come la farfalla di Teleacras. Il contratto, che nel caso di Arnone è stato stipulato, ripulisce e garantisce lo specchio, impedendo che scambiandosi vicendevolmente l'arma della difida, della denuncia o della censura, si condizioni il dibattito, il confronto ed anche la dialettica infuocata. Perché no? Lo specchio di Teleacras è così. Garanzia dell'angolo a 360 gradi. L'informazione che, come la farfalla, vola alto, alla stessa distanza da tutto e tutti. Noi preferiamo lo specchio inteso così. L'angolo a 360 gradi. Altri invece, come il giornalista Franco Castaldo, nonostante l'intenzione grandangolare ed il giornale grandangolo, focalizzano fanaticamente un argomento, il contratto, usandolo pretestuosamente. Infatti, poi tale pretesto è stato strumento, come già altre volte in passato e senza successo, per infierire contro l'emittente televisiva Teleacras ed il suo editore, prospettandone la scomunica da parte delle autorità preposte e minacciandone la sopravvivenza. Io scrivo ininterrottamente a Teleacras dal 17 febbraio del 1999 e da allora non vi è stato mai un giorno o una occasione in cui ad alcuno è stato negato l'accesso al nostro microfono. Mai! Un esempio, lo scorso 5 agosto, l'assessore Rosalda Passarello che occupa Teleacras perché lamenta mancanza di spazio mediatico. E invece no! Io stesso, su invito del mio editore, ho registrato con la Passarello oltre 15 minuti di reazione, ferro e fuoco, anche contro Arnone. E allo stesso modo io ricordo al mio microfono Angelo Scifo, Giuseppe Catania, Salvatore Patti, Aldo Capitano, Calogero Sodano, Enrico Quattrocchi, Emilio Messana, Carmelo Picarella, Giacomo Di Benedetto, Vincenzo Rizzo, Franco Castaldo. E Franco Castaldo lo ricorda anche il fratello Lelio, quando registrò a casa di Franco una puntata di opinioni in onda su Teleacras. E allora dunque, e allora dunque voliamo alto sulle ali della nostra farfalla. Non ci prenderanno, ma non perché scapperemo, semplicemente perché voliamo alto. Pronti lo siamo sempre per sostenere e affrontare il giudizio di rispettabilissime autorità, di garanti ed anche della sostampa, di cui ad esempio Franco Castaldo è un autorevole esponente. Dalle 1999, ossia dall'anno del mio ingresso a Teleacras, le occasioni perché le ali della nostra farfalla fossero spezzate sono state tante. Crisi giudiziarie e personali, anche arresti, poi bocciati dalle sentenze di assoluzione. Crisi finanziarie, gravi e ricorrenti, come in tante altre aziende della nostra martoriata Sicilia. Un bastone tra le ruote si è tentato di incastrarlo anche quando io stesso ho intrapreso la procedura per iscrivermi all'albo dei giornalisti professionisti. E adesso lo sono. Mai però vi è stata crisi di entusiasmo e di buona volontà. Virtù che hanno sempre alimentato il volo della farfalla, ripulendo lo specchio. Limpido e a 360 gradi perché riflettesse senza alcuna macchia ciò che ogni giorno, uno dopo l'altro, gli si mostra innanzi. Vola, farfalla, vola!